Attenzione, il video che state per vedere contiene immagini sporcaccione Noi vi abbiamo avvisato, il resto sono cazzi nostri Bentornati a questa rubrica di Memori 8-bit che si chiama Gameplay 8-bit Dove giochiamo a giochi un pochino così inusuali Sporcazzotti In questo caso In questo caso non è più bentornati ma benvenuti Ed ecco a voi Maurizio Merluzzo di Cotto e Frullato Ho scelto appositamente per Maurizio dei giochi specifici Specifici Con come è capitato E sono dei giochi un po' strani Ci sono le cose veramente strane Tu sarai pronto con il tuo pad sottoposto Il tipico pad del Commodore 64 Quando si giocava bisognava stare comodi Si, comodi Il Commodore Questo gioco è Sodoma Spero non sia un'inculata Okuto Force Questo è Saved from the dust of time Sei contento? Hai pensato a me Certo Devo premere qualcosa Ci sono pure le stellette che brillano Sono sette Questo gioco è italiano Meraviglioso L'orgoglio proprio di terra nostra Allora vai, metti le istruzioni che me le voglio leggere Ci sono tre livelli di difficoltà Si accede al secondo livello dopo i mille punti Si accede al terzo livello dopo i 5.000 Al primo livello ogni infilzata vale 100 punti Cosa fa un infilzato? Al secondo livello 250 punti al terzo 500 Puoi usare il pulsante rosso per accelerare mentre ti stai spostando Ma così facendo consumi spermini Questi sono più chiari All'inizio hai 5 piselli e 500 spermini Sei pronto? Oh la 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 Quindi io devo muovere il cazzo in modo da infilarlo nel culo Nel culo Che però vai dire Appena si appoggia alla cappella C'è proprio la sensazione Lo ferra di Ah si spermini sono Ah hai sbattuto contro una chiappa Brutto la cappella sulla chiappa a quella forza Per esempio Oh la la Oh la la E' molto movimentato il ritmo di questo gioco Si Schiacci il tasto va più veloce Però in questo senso non ti serve Ma ti servirà Complimenti sei arrivato a quota mille Hai guadagnato un cazzo Hai guadagnato un cazzo Se vuoi guadagnarne un altro Devi arrivare a 5.000 Oh Hai capito Ah 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 Ehi attenzione Bravo sei un ottimo inculatore Sei sposa contro l'osso Il dolore è pazzesco Attento che sprechi gli spermini Spostandoti velocemente Ah non l'avevo capito io Beh gli spermini sono importanti L'hai preso proprio Nel culo Nel culo giusto Bravo Dolore 4.500 Perché poi siamo collegati tipo il daimos A questo gioco Quindi quando il cazzo picchia contro Non lo prende la mano C'era quasi Cazzo Ormai finisco Dolore Ah hai un ultimo pisello Allora certo Ok Mi sono rotto il cazzo Allora andiamo avanti Andiamo avanti Direi che è solo ma Va bene così Ecco Cosa devo fare È un brufolo quello Sì Va a schiacciare Ecco esattamente Ci pensi che c'è un giochi di questo tipo? Eh ho capito Ma se la maiala di sua mamma non lo schiaccia Eh ho capito Magari c'ha questo La sugna Come sono i controlli? Sono maneggevoli? Ma no Perché la devi mettere a capo Poteva essere precisissima Non potevano essere un attimino più Sì è vero Adesso è proprio al centro Vado finisce il gioco Tipo dei palloncini Secondo me non finirà mai Io scoppio sempre gli stessi due Perché sono messi sull'asse Sono messi sull'asse giusta Vedi? Sono montati sull'asse giusta tutti e due Se ne è accorto il gioco Che sono montati sull'asse giusta Ma guarda in effetti c'è un minimo di Vabbè basta Sto per vomitare Adesso arriviamo a quello che è uno dei miei preferiti in assoluto Quello che per me come concetto È proprio una delle cose più assurde che sia mai stata concepita Per il Commodore 64 Press Wars Liquid Edition Sì c'è un cazzo che piscia Cazzo che piscia è una C'è una merda È una merda fumante proprio Oh No che schifo è sto cosa Anus Cam Cosa devo fare? Velocemente È stressista Notare l'animazione del personaggio Che si sta evidentemente Notare il perineo come si Sforzando Cioè le vene in testa Ecco Ah ho cagato A spruzzo tra l'altro Hai cagato Hai fatto 3270 punti cagando Stai tirando lo sciacquone Giustamente Si pulisce il culo Guarda Ci sono le palle che si vedono le palluzze Go Notare che Go è scritto sull'ano proprio Lui è bellissimo Cioè lui vedi che nazionalità Cioè ha gli occhiali È coso è il presidente della Corella Questo è un record 118 Come 118 Ci ho messo un attimo Forse devi rispettare i suoi tempi Niente l'ho stimolato troppo Ok Poi c'ha una cosa accanto È un bluetooth C'è il gomito bluetooth Esatto La bocca che è tipo ano Pure quella Stimoliamoglielo bene così È schifo La cosa più fantastica Sono questi occhiali Cioè lui vai al cesso con gli occhiali da solo E poi facendo arrivare piano 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 Quindi il senso qua è Zero Non c'è senso Niente non si capisce A questo punto Per te Cosa speciale Mi piace proprio questa Cioè ti dico subito una cosa normale Last battle Più due Vuoi unlimited time Unlimited energy Sì sì dai Facciamo i cheaters Questo è uno degli ultimi giochi Del Comor 64 Ok Ed è una conversione Europea Sta continuando a caricare Di un gioco uscito in Giappone Che in Europa Hanno deciso di cambiare nome Ai personaggi Ma questo è il gioco di Ken Che uscì La versione europea del gioco di Ken Esattamente Potrebbe essere chiunque Cioè diverse opzioni C'è pure il calcio Sì ma non tira Quando cazzo gli pare Ti puoi pure abbassare Poi pure colpire abbassando Mi capito come l'hanno chiamato Max No Arzak Arzak Ma è Shu Shin Chi è Per cazzo non so Perché sono tutti diversi Qua ci assomiglia un pochino Un pochino Dove ne vado Boh Cosa vuoi tu Mostra speciale Sto spara da una merda Bastardo Chiacca Ti arpionano Gli acchi Mi piacciono quelli in alto Che stanno fermo Così In posa Ti sta finendo le energie No la life No ovvio Abbiamo messo l'energia infinita Ah ma certo Questa è una donna Alissa Arzak Save the world I am the only one Who can save this world Testi proprio profondissimi Ah Cuori Come si fa la token Ma non si fa un gazzo No un po' Non la copillo in basso neanche Ah è così Hai cuori praticamente no Eh Penso di sì Dovrebbe rispettare Ken Solo che Non se ne accorge nessuno In che modo Questa cosa si chiama rispetto Livelli di passaggio Ma è Soria Musica incredibile Oh Qua cominciamo cominciamo Perché dopo cuori Mi fa combattere contro Soria Della luce purpurea Ehi addirittura Rivaltamento dello scorrimento Destra sinistra Destra sinistra Sinistra destra Poi c'è un'ambientazione che Diciamo la verità Con Kenny il guerriero Sembra Super Mario Ha poco a che fare E' bello che se li saldi in testa Però cambiano direzione Sono scesi a torre E poi li spara via Non è mai che li colpisce Li spara via Sì È V Nella versione originale Loro esplodono Ma fu censurato Nella versione per amiga C'era un codice con la quale Tu potevi sbloccare questa cosa E li rivedevi esplode Io mi sono rotto il cazzo No è una calcata sto gioco Basta Quindi recensione Final battle Perché poi è l'ultima battaglia Non ne fai più Che dire di questi giochi porni Che dire di questi giochi porni Giochi strani Giochi bizzarri Così almeno C'è una cosa che io adoro Delle sedie Io sono un fan delle sedie Perché puoi fare cose così Ecco Io adoro levare l'aria dalle sedie Siamo tornati allo stato Alla proporzione nostra Ho fatto un gioco Dove inculavo Un gioco dove cacavo Una versione orribile di Ken Ah quello dove di Ah quello di Brufoli Che schifo Schifezza Che schifezza Se vi è piaciuto questo video Lasciate un commento Iscrivetevi alla pagina Avrete presto altre memorie 8 bit Che la forza di Grayskull SIA COM VOI PER IL POTERE DI GRAYSKUL Giochi Grazie a tutti.